Pescara ospiterà la terapia subintensiva per pazienti pediatrici affetti da patologie rare. Un grande traguardo che si apre in via sperimentale con due postazioni e con un cronoprogramma che prevede anche la formazione di personale specializzato. Questa mattina a presiedere al tavolo tecnico c'era l'assessore regionale Silvio Paolucci, il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Alfonso Mascitelli, il primario di pediatria dell'ospedale di Pescara dottor Giuliano Lombardi, il manager dell'asla di Pescara Claudio Damario e il papà della piccola Noemi Sciarretta, promotore dell'iniziativa e noto per le sue campagne in favore del sostegno alle famiglie dei pazienti con patologie neurodegenerative. Intanto il progetto Noemi è un progetto molto più ampio che parte da una situazione davvero molto difficile, familiare e chiaramente per Noemi stessa, ma che in realtà rappresenta una comunità di famiglie, di utenti, di bambini nel caso di specie che soffrono di malattie rare. Oggi l'incontro vuole determinare in modo concludente quali siano i meccanismi tecnici per garantire il personale adeguato una volta che si è scelto Pescara quale sede per erogare questa offerta, ritenendo peraltro Pescara una delle sedi appunto che sulla questione, tra virgolette, dell'offerta pediatrica così va a chiudere un ciclo vero e proprio dell'offerta. Un progetto ambizioso che necessita di diversi passi già stabiliti nel corso del tavolo tecnico di questa mattina e che impegnerà medici e personale medico anche fuori regione per apprendere dalle eccellenze del territorio italiano le pertinenze necessarie per il trattamento dei piccoli pazienti. Logicamente ora si fa lavorare sull'assistenza domiciliare perché ricordiamo che nelle disabilità gravissime i genitori rischiano la perdita del posto di lavoro perché non c'è un personale in grado di gestire a casa, a domicilio il bambino o il proprio caro. Quindi si deve intervenire anche su questo. Ora si parterà con la formazione. La cosa buona è che siamo riusciti a fare entrare nel progetto il gaselino di Genova. Il gaselino di Genova si è comunque fatto avanti per dare il supporto alla formazione. È una grande cosa perché comunque dalla storia di Noemi, nata l'associazione Progetto Noemi che quindi si muove verso questo percorso, si sta aprendo un centro di eccellenza in Pescara, in Abruzzo però c'è ancora tanto da fare. È un inizio però è già una grande cosa.